Giochi all'aperto per bambini Allora i materiali che ci serviranno sono Una busta piena di palloncini d'acqua Due bottiglie tagliate a metà per prendere i palloncini per il primo gioco Poi ci serve una vaschetta per mettere i palloncini pieni d'acqua Procedimento Allora noi dovremo riempire i palloncini d'acqua Allora non troppo pieni o se no si scoppiano come è successo alla mamma Primo gioco Allora chi lancia il palloncino deve prenderlo con la bottiglia tagliata a metà E chi li cade a terra perde Secondo gioco Allora il secondo gioco consiste in Lanciare il palloncino pieno d'acqua dentro la vaschetta Chi lo fa cadere a terra perde Allora questo gioco è molto divertente Perché si può scoppiare e ci si può bagnare tutti ed è divertente Terzo gioco Allora il terzo gioco è che devi lanciare il palloncino d'acqua e devi prenderlo con le mani E chi cade si schizza perde In questo caso ho vinto io Scriviti adesso Non perderti altri video E se ti piace il video dammi un pollice in su e si iscriviti e condividilo Ciao 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 Grazie.